ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 14 maggio 2022 il sole e sorto alle 5 e 43 e tramonterà oggi alle 20 e 26 siamo dunque una situazione di prolungamento per quanto riguarda le ore di luce è una bella giornata quasi con una temperatura anzi senza quasi con una temperatura estiva vedremo dopo le previsioni del tempo intanto oggi iniziamo il nostro incontro con il santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia san mattia san mattia apostolo divenne apostolo san mattia al posto di giuda quando appunto l'uomo che tradì gesù andò a suicidarsi fu estratto a sorte con giuseppe soprannominato il giusto la sorte appunto decretò che fosse mattia l'apostolo e poi quando gli apostoli si dispersero per il mondo a mattia fu segnata l'etiopia ma girò particolarmente allora il mondo conosciuto e anche lui alla fine morì martirizzato fu decapitato a sebastopoli le sue reliquie oggi si conservano in parte a treviri in germania e in parte nella chiesa di santa maria maggiore a roma san mattia apostolo forse non si conoscono tutti i nomi degli apostoli ma questo è un nome che ancora si ripercuote al giorno d'oggi ed ora passiamo alle previsioni del tempo e vediamo come la grafica ci evidenzia quasi una fotocopia della giornata di ieri una giornata stabile e asciutta con cieli prevalentemente sereni offuscati soltanto da qualche velatura nel corso della giornata le massime sono in aumento fino a 28 29 gradi una giornata estiva dicevo piena di calore e di colore e chi può può passare il weekend al mare perché le attrezzature si stanno già consolidando appunto sulle spiagge e le temperature dicevo sono alte i venti e spireranno da una direzione con una tensione debole da ovest e sud ovest sulle coste e da sud ovest per quanto riguarda l'entroterra e quindi apriamo il giornale il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ma le aperture sono uguali per quanto riguarda uguali nel senso che sono sullo stesso argomento sia per il Corriere Adriatico che per il resto del Carlino guardiamole per un attimo entrambe la regione qualifica il Codma al via due cantieri per un importo considerevole 1,4 milioni di euro invece il resto del Carlino in titola Codma la regione ci investe oltre un milione lo storico immobile che ospita il mercato ortofrutticolo la protezione civile e lab vaccinale sarà interamente ristrutturato era stato lasciato un po in degrado questo grande impianto che doveva rivitalizzare la produzione orticola del fanese un tempo molto fanese molto famosa per la produzione del cavolo tardivo che aveva conquistato tutti i mercati europei poi questa produzione è calata il Codma ha trovato si è trovata nell'incertezza di una sua destinazione vi sono state organizzate tante belle mostre che continuano tuttora ma ora sarà ancora di più qualificato vediamo la regione ha stanziato un milione e 400 mila euro per opere di manutenzione al centro ortofrutticolo Codma Rosciano di Fano l'ha annunciato ieri mattina l'assessore regionale Francesco Baldelli specificando che gran parte della cifra circa 850 mila euro è disponibile per una campagna di asfaltature sui 18.500 metri quadrati di tutta l'area una grande area attorno al fungo centrale ebbene poi ci saranno collegamenti con i parcheggi e il resto della somma sarà utilizzato per riqualificare i 2200 metri quadri della palazzina direzionale che attualmente contiene appunto gli uffici del lab vaccinale che nei giorni scorsi ora molto molto di meno hanno così ospitato tantissimi fanesi e gente che proveniva dall'entroterra e ieri si è tenuto un importante convegno a Fano organizzato dalla Confartigianato sul credito e la Confartigianato ultimamente ha organizzato diversi incontri in molte cittadine della regione Marche si è trattato di diversi argomenti dal turismo, dallo spopolamento dei borghi e da altri problemi che incombono appunto sul settore economico ma credo che il credito sia quello più importante e proprio del credito si è parlato ieri sviscerando qual è il comportamento delle banche nei confronti della realtà locale e Carloni anche il vice presidente della regione Marche Mirko Carloni ha evidenziato anche un aspetto critico, ha dato la sua soddisfazione, ha espresso la sua soddisfazione per quanto riguarda l'insediamento nel territorio regionale di grandi istituti di credito a Fano per esempio e il credit agricol ma ha detto che in passato pochi sono stati gli impieghi e grandi invece sono state appunto le riscossioni e quindi c'è da cambiare questo rapporto insomma impieghi da incentivare secondo Carloni Giriamo ancora la pagina e vediamo che ci sono provvidenze anche per l'ambito sociale Per quanto riguarda la TS6 e il capofila Fano arrivano 2 milioni e mezzo dal PNRR Tutti i progetti sono stati ammessi ai contributi Soddisfatto di quanto avvenuto l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti che nelle veci del sindaco presiede l'ambito numero 6 Per quanto riguarda lo sforzo compiuto sul potenziamento dei servizi sanitari domiciliari Si arricchisce dunque di più il budget a disposizione di questo settore e si cercherà di incentivare in modo particolare l'attività di inclusione sociale di cui beneficiano tutti i nuovi comuni d'ambito Oggi è una giornata, anzi diciamo meglio una serata particolare perché questa sera si celebra la Sera dei Musei La Notte dei Musei Rinasce la cultura anche a Fano e si rianima la Notte dei Musei Fanesi dopo la sosta provocata dalla pandemia Quindi musei gratis questa sera sia la Pinacoteca Civica sia il Museo Archeologico che il Museo della Flaminia al Pincio I primi due nel Palazzo Malatestiano e il secondo nei pressi dell'Arco di Augusto Ci saranno poi anche tante animazioni Alcune sono interpretate dai ragazzi del liceo artistico a Polloni che saranno disponibili ad accogliere adulti e soprattutto anche bambini in visita al museo e dalle 21 alle 24 appunto queste istituzioni saranno pronte a ricevere il pubblico fare una visita è del tutto consigliabile E invece quest'articolo a fondo pagina non è affatto simpatico ATA approva una stangata per quanto riguarda l'aumento sulla raccolta dei rifiuti un 2,6 per tutti Per Fano invece è il 3% non solo il 2,6 però comunque il Comune ha cercato di contemporare questo aumento utilizzando le risorse che sono venute in cassa per quanto riguarda il fatto che molti non hanno osservato attentamente appunto le norme della raccolta e quindi hanno evaso la tassa sono 430 mila euro in più di costi per quanto riguarda un potenziamento del servizio un impegno finanziario complessivamente stimabile a regime e a costi diretti per quanto riguarda la raccolta differenziata la raccolta porta a porta gli imballaggi di plastica il potenziamento della raccolta manuale e l'aumento della pulizia nei quartieri della città insomma l'ASET subisce degli aumenti e quindi li riversa sulle bollette dei suoi clienti e le famiglie devono soggettarsi a pagare di più cosa non facile in questi tempi dove quando anzi tutto aumenta un groviglio di segni onirici in 45 opere di Del Signore una mostra che si inaugura nella Rocca Malatestiana alle 18 il Vernissage appunto alla Rocca Paolo Del Signore è un artista molto molto conosciuto a Fano molto molto fedele all'impronta della sua arte un'arte diciamo così che si riferisce soprattutto alla città alle case, alla gente che la popola una città che cambia aspetto per quanto riguarda una visione notturna una visione solare una visione comunque sempre molto molto animata una visione coerente con quello che esprime il sentimento di Paolo Del Signore e oggi lo vedremo appunto nelle sue ultime opere esposte alla Rocca le presenteranno Massimo Pugliani che è un po' il direttore artistico dell'iniziativa e anche il noto architetto urbanista Gianni Lamedica dato che si parla di città che si parla di centro storico si parla di case insomma non c'è persona più adatta che Gianni Lamedica a presentare questa iniziativa a Urbania l'assessore Aguzzi sbaglia la provincia pone ostacoli si tratta della dichiarazione che riguarda lo Stato delle Guardie Ecologiche il Presidente delle Guardie Ecologiche il Generale Giuseppe Dini contesta la risposta della Regione se la Regione Marche ha fatto propria la gestione dei comparti Ambiente Pesca non si capisce perché non possa fare altrettanto per le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno bisogno di aiuti sia dalla provincia che dalla Regione appunto è stato il commento questo del Presidente Provinciale delle Guardie Giuseppe Dini infatti contesta la risposta che è stata data dall'assessore Aguzzi per quanto riguarda l'interrogazione a firma di Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle e della Vitrie Biancani del PD Aguzzi infatti ha definito una idiozia che le competenze delle Guardie Ecologiche e Volontari passi alla Regione e continua il dibattito su questo tema A Pergola creatività e ricerca digitali un blooming accoglie le proposte a settembre si organizza la sesta edizione e si delinea il programma degli eventi estivi si va delineando insomma il programma di tutto quello che animerà la città dei bronzi dorati negli ultimi giorni sono state comunicate le date di tre eventi in modo particolare si tratta di Alter Art Festival la cui seconda edizione si terrà dal 7 al 10 luglio la festa del vino cinquantesima edizione che torna con il sottotitolo il vino in festa Pergola Rosso Docche il 30 e il 31 e poi il Blooming Festival che accenderà il centro storico pergolese di uno dei borghi più belli d'Italia così insomma viene definita Pergola il 9 e il 10 settembre quindi belle iniziative per quanto riguarda Senigallia vediamo che la polizia la finanza anzi ha scoperto furbetti del reddito di cittadinanza nel mirino alcuni stranieri originari del Blangard esce nel corso di una operazione si stanno effettuando dei controlli che la guardia di finanza ha eseguito ieri mattina al porto di Senigallia accertamenti sono in corso su alcuni stranieri che risultano percepire il reddito di cittadinanza e sono stati trovati imbarcati nelle barche insomma situazione ovviamente che è da controllare passiamo alla pagina regionale e vediamo che il Corriere Adriatico pone ai raggi X la situazione scolastica dell'intera regione è stato consegnato all'ufficio regionale l'elenco delle criticità che sono state risolte solo in parte dal numero massimo di studenti con disabilità all'interno delle aule all'accorpamento di ragazzi che frequentano indirizzi diversi ma sono diversi i nodi da sciogliere a questo proposito vediamo che le criticità nelle scuole sono determinate dal numero massimo di allunni in classe in cui sono presenti i studenti con disabilità ma anche la costituzione delle pluriclassi e poi l'accorpamento di indirizzi diversi nelle scuole secondarie superiori la distanza da percorrere anche tra casa e scuola è una delle criticità di cui bisogna tenere conto deroghe per il cratere o si rischia l'abbandono è una dichiarazione dell'assessore regionale all'istruzione Giorgia Latini l'assessore ha detto le scuole non siano ostaggio dei numeri ed ora passiamo alla pagina pesarese dove si parla dell'arrivo improvviso dell'estate e i bagnanti in spiaggia prendono il sole cos'altro devono fare però tra ruspe e ombrelloni perché insomma le spiagge ancora non sono state finite di essere arredate con tutti gli strumenti dell'attività balneare il caldo prende un po' in contropiede i bagnini concessionari al lavoro per aprire gli stabilimenti e per quanto riguarda Fano qui vediamo una sequenza fotografica che illustra benissimo la situazione vediamo come in alcuni bagni ancora la spiaggia è completamente deserta insomma si sta lavorando per livellarla insomma con degli strumenti di particolare impatto qua invece vediamo invece una spiaggia dove già si pongono le basi degli ombrelloni e un'altra spiaggia dove gli ombrelloni sono già belle e sistemati dall'Arzilla a Sassonia per i bagnini fanesi si parte sotto i migliori auspici bagni Sergio pronti bagni peppe con le ruspe e bagni Maurizio in addirittura di arrivo insomma questa è un po' la situazione delle coste fanesi e provinciali fondi e opere pubbliche da Ricci una mappa tesoretto questa è la mia eredità detto il sindaco di Pesaro lo strumento spiega i finanziamenti del 2014 e la loro destinazione sono oltre 1,6 miliardi di euro la maggior parte verrà impiegato per l'arretramento della ferrovia circa il 75% del tesoretto il comune che cosa ha fatto ha elencato 131 opere dal 2014 ad oggi di cui 49 completate 10 in corso e 72 finanziate questo è lo stato dei lavori pubblici del comune di Pesaro insomma è il pacchetto di interventi tra passato presente e futuro contenuto nella nuova mappa digitale di Pesaro che è stata presentata dal sindaco Matteo Ricci e quanto si era pronosticato ovvero quanto era stato chiesto dal sindaco Ricci al direttore di Aspes Pieri si è verificato Colombo è stato sidurato e a suo posto è stato eletto Antonio Muggito quale responsabile per quanto riguarda la Vittifrigo Arena direttore generale Aspes nuovo manager Vittifrigo sidurato Colombo dopo il pasticcio tra la VL e la Tecnocasa e arriva Muggito intanto Ricci annuncia che c'è il SIA a posticipare l'eventuale gara 4 a domenica 22 è stato raggiunto l'accordo per quanto riguarda appunto le due squadre contendenti per quanto riguarda il campionato di basket e quindi si può realizzare sia la convention di Tecnocasa sia la partita che al momento erano se no concomitanti nello stesso giorno nelle stesse ore nello stesso palace ora la situazione si è risolta la fondazione sceglie di nutrire bambini e ucraini tra le priorità sono i progetti della fondazione Wanda di Ferdinando sostenuti dal comune il post-covid porta delle serie novità il cambiamento intrapreso durante la fase pandemica ha portato l'ente la fondazione a pianificare tre diversi momenti oggettivi plurale circolare connessa nutrire appunto in questo caso è il verbo scelto per connotare questa rinnovata disponibilità insomma sono preziose queste istituzioni che possono aiutare i più deboli e poi parliamo di cronaca parliamo di cronaca perché sono stati individuati gli autori di furti nel pesarese soprattutto per quanto riguarda i furti d'auto una banda in fuga aveva razziato poi diamanti collane e orologi d'oro uno degli arrestati prende addirittura il reddito di cittadinanza la serata più trendy è al museo anche Pesaro naturalmente festeggia la notte dei musei ma per il misteri c'è l'oliveriana il grand tour e la stradomenica si rincorrono con una serie di proposte in quest'ultimo weekend iniziative anche per i bambini portare i bambini al museo ed educarli all'apprezzamento delle opere d'arte ma soprattutto al significato che c'è all'interno delle opere d'arte che forse ad un primo sguardo distratto non si coglie è importante per educare la sensibilità verso il bello verso il significato dei più piccoli che poi crescendo avranno la loro personalità sulla Vallefoglia abbiamo un articolo che riguarda Urbino che parla del rally dell'Adriatico 110 equipaggi iscritti in gara domani in nove prove speciali la competizione torna ad Urbino c'è un itinerario ad anello che coinvolge Fermignano Caglie Fossombroni torna dunque il rally ad Urbino nel Montefeltro l'ultima gala risale al 1995 è un'iniziativa importante anche dal punto di vista turistico perché poi questo rally è molto spettacolare però ad Urbino si parla ancora del Petriccio che il cui accordo viene definito come una svolta epocale che produrrà vantaggi per tutta la città il sindaco Gambini Maurizio Gambini interviene sulle prospettive per la didattica universitaria e il turismo internazionale la delibera relativa all'area del Petriccio dove sorgeranno un nuovo studentato un centro polifunzionale e un grande parcheggio è stata approvata finalmente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ed ora apriamo il resto del Carlino dove abbiamo già visto la notizia di apertura che si riferiva appunto ai nuovi investimenti sul Codma dividiamo qui appunto sul titolo di apertura mentre a fondo pagina abbiamo un articolo che invece si riferisce alle iniziative organizzate alla Rocca su Ruggeri e su Pirandello sono iniziative che fanno riferimento anche al fatto che Ruggero Ruggeri è nato a Fano è nato nel Palazzo Bracci Pagani all'angolo tra Corso Matteotti e Via Arco d'Augusto Fano e Pirandello la città diventa teatro ci sarà un meeting dal 26 al 28 maggio per celebrare il grande drammaturco e il suo interprete preferito ovvero Ruggero Ruggeri Pirandello scrisse addirittura delle commedie pensando a come interprete principale Ruggero Ruggeri sei personaggi in cerca di autore l'uomo dal fiore in bocca insomma è sempre Ruggeri che era in testa a Pirandello e soprattutto questa iniziativa culminerà con il concorso e quindi il decreto dei vincitori per quanto riguarda i giovani attori i giovani attori che saranno poi premiati e quindi invitati ad interpretare brani scritti da Pirandello in una performance che avrà appunto la sua localizzazione a Fano città natale di Ruggeri una iniziativa che coinvolge il senso civico degli studenti droga la polizia locale si allea con gli studenti la comandante fanese Maria Rita Montagna ha coinvolto nella lotta i ragazzi delle superiori in modo particolare quelli del Polo 3 serviva loro il linguaggio per far capire con dei video la tossicodipendenza e presto sarà spiegato in tutti gli istituti scolastici della provincia con la collaborazione della prefettura il progetto antidroga che è stato prodotto proprio dagli studenti del Polo 3 di Fano che negli ultimi anni si sono dedicati alla realizzazione di un cortometraggio sulla tossicodipendenza e di una brochure che spiega nel dettaglio che cosa sono le droghe quali sono gli effetti che essi procurano e soprattutto i danni i danni poi morali e fisici che producono nel fisico dei ragazzi l'hanno chiamata questa iniziativa io dico no un no risoluto nei confronti delle tossicodipendenze ovvero dell'infilare la testa in un tunnel dove la luce è molto molto lontana una bella iniziativa insomma di collaborazione tra la polizia locale e gli istituti fanesi ancora il resto del Carlino parla dell'arrivo di nuovi finanziamenti per quanto riguarda l'ambito il PNRR premia sei progetti dell'ambito fanese 2,6 milioni a favore dei più frangili e poi invece a Fraterosa vediamo come l'economia si riferisce al mondo agricolo coltivazione astrisce biodiversità più colture migliorano l'ambiente e soprattutto il caso della fava di Fraterosa Fraterosa ha una nicchia per quanto riguarda dei prodotti molto molto importanti a partire dal vino e di altre specialità presidio Slow Food al centro di un importante progetto europeo il prodotto tipico fatto crescere col grano tenero effetti benefici su infestanti e sulla qualità del terreno a Urbino largo a turismo e sport con la permuta del Petriccio il sindaco Gambini annuncia il futuro dei terreni acquisiti dall'università solgeranno impianti parti e anche un gattile migliora l'offerta così di Urbino un'offerta sociale un'offerta turistica un'offerta strutturale sia per abitanti che per i visitatori e poi giriamo ancora la pagina e vediamo anche il resto del Carlino si occupa del rally dell'Adriatico per cui accelera anche il turismo pronto a prendere il via per la prima volta ad Urbino con partenza e arrivo a Borgo Mercatale sarà un circuito ad anello nove prove speciali 110 equipaggi iscritti e tre categorie di veicoli in gara nelle fine settimana per il 29esima edizione del rally dell'Adriatico una manifestazione pronta a prendere il via e lo farà per la prima volta proprio nella città ducale con partenza e arrivo a Borgo Mercatale da cui le vetture si muoveranno per sfidarsi in prove a tempo sul circuito ad anello che poi coinvolgerà anche le località di Fermignano Cagli e Fossombrone da percorrere tre volte addirittura sono tre volte il circuito ad anello nel nostro territorio è una bellissima iniziativa Fano Grosseto Anas convoca tutti per decidere ebbene i giornali ogni tanto dicono che si è deciso poi in realtà ancora non si è deciso nulla e si ritorna a discutere per decidere ebbene questa è una iniziativa è la conferenza di servizi che l'Anas ha fissato per il 25 maggio in Regione enti e comuni sono interessati sono invitati a spiegare perché dicono no alle due corsie l'Anas per questioni di risparmio vorrebbe completare la Fano Grosseto con due corsie invece la Regione dice no ce ne vogliono quattro vedremo chi la spunterà e questo è tutto per il momento abbiamo esaurito il nostro tempo vi do appuntamento a lunedì alle 7 vi auguro un buon weekend e una buona giornata a risentirci grazie a tutti Grazie.